vorrei raccontarvi non tanto della rivolta nel ghetto di varsavia cominciata il 19 aprile 1943 quanto di marec edelman marec edelman era il comandante in seconda dell'organizzazione di combattimento ebraica e quindi della rivolta e marec edelman era un militante del partito bund lega generale dei lavoratori ebrei in polonia un partito socialista non sionista dove si parlava in idish ed era soprattutto prima di tutto per me prima di tutto il mio maestro di vita e per questo che racconto di lui ma anche perché è stato un testimone importante ha vissuto a lungo fino all'età di 90 anni quando si è spento nel suo letto a casa sua nel 2009 una delle cose che marec edelman mi raccontava spesso era la seguente la rivolta armata nel ghetto è stata la prima azione non la prima azione ma la prima rivolta appunto armata contro gli occupanti nazisti in europa e ne era molto orgoglioso di questo primato però mi diceva sempre la rivolta è stata possibile non tanto perché dei ragazzi perché erano tutti i ragazzi 220 appartenenti all'organizzazione ragazzi e ragazze le donne combattevano esattamente come i maschi era possibile non tanto perché i ragazzi e le ragazze volevano sparare volevano comunque fare una rivolta armata ma perché avevano prima condiviso dei valori un linguaggio delle speranze e anche una visione del futuro una speranza del futuro una visione del futuro che gli permettevano di sopravvivere anche nelle condizioni del ghetto di varsavia e anche di pensare che questa che dopo dopo il ghetto ci sarebbe forse stato qualcos'altro lo dico perché esiste una versione dei fatti in larga questa parte anche condivisa da alcuni dei sopravvissuti alla rivolta ai pochi sopravvissuti per cui si combatte si sarebbe combattuti in nome della dignità per morire dignitosamente e cose simili cose vere certamente ma prima di tutto penso almeno da le mie frequentazioni di mare Kederman che queste persone hanno combattuto perché li veniva naturale perché appunto era una forma di resistenza non era un pensare alla morte era un pensare all'avvenire era un pensare agli altri a coloro che sarebbero venuti dopo di loro che non è che un pensiero della vita la vita la vita era la cosa più preziosa che esisteva questo me lo raccontava sempre mare Kederman e mi diceva anche che prima della resistenza armata c'è stata tanta resistenza non armata ed è evidente questo basta pensare qui non cito mare Kederman cito la storia il circolo di oneg shabbat gli intellettuali gli storici che scrivevano la cronaca del ghetto in diretta per cui noi oggi sappiamo moltissime cose del ghetto di varsavia sto pensando ai teatri sto pensando alle scuole clandestine alle organizzazioni di aiuto ai bisognosi insomma voglio dire solo questo che la cosa che ha dato forza a questi 220 ragazzi e ragazze a resistere per oltre tre settimane alle armate di hitler è stato anche il fatto che loro si sentivano parte di un ampio fronte antifascista in tutta l'europa e che nonostante le condizioni del ghetto nonostante sapessero quanto la morte fosse vicina loro comunque combattevano per la vita e per il futuro nonostante nonostante le condizioni del ghetto nonostante le condizioni del ghetto